Il referendum secondo la logica. Ora vorrei prendere il testo della legge in questione, il testo della deforma, cioè della riforma, scusate, e spiegarvi il perché, dalla prima e l'ultima parola, tutto il testo della legge dal punto di vista logico è fallace. Si parla di superamento del bicameralismo paritario. Bene, questa logica si chiama fallace del linguaggio pregiudizievole, perché tu, chiamandolo superamento, stai suggerendo che sia migliore quello non paritario di quello paritario. Quando parli di riduzione del numero dei parlamentari e dei costi della politica, si chiama, in logica, evidenza soppressa, perché non ti dice a che prezzo non ti stava pagando questo, questa riduzione, non ti dice cosa succede veramente, non ti dice che tu tagli sulla democrazia, non è un elemento economico, non ti dice che in realtà non serve a un cavolo, non ti dice che tu puoi tagliare tutte le spese del mondo, ma tu, 2000 miliardi di debito pubblico, eccetera, eccetera, poverta nel mondo, e tantissime altre cose non le risolvi in questa maniera, tu rispondi qualche centesimo, stai tagliando il numero dei parlamentari. Tagli solo qualche centesimo, non serviamo a niente, per questo è un'evidenza soppressa, anzi, se ci sono parecchie, non attacca il cuore del problema, lo sposta, cioè, tra l'altro anche questa ragione, per esempio, è una falace di pertinenza, cioè non è pertinente la riduzione del numero dei parlamentari con la risoluzione dei nostri problemi, questa cosa vale praticamente per tutto il resto della riforma, dire il vero, eh, la riforma non è pertinente ai nostri veri problemi, perché bisogna rivolverli al nocciolo, tu non fai finire mica l'inquinamento, non fai finire la poverta nel mondo, non fai finire la guerra, non fai finire lo sfruttamento, non fai finire la disoccupazione, anche qui si può anche parlare di linguaggio predilizievole, perché, oramai, dopo tutti questi anni di retorica e propaganda, è difficile trovare un italiano contrario alla riduzione dei costi della politica e del parlamentare. Poi, riguardo il professione del CNE del titolo quinto, veramente qua si va oltre ogni schifo, perché non è soltanto un'evidenza soppressa, quando si tratta di aver ignorato alcune cose, alcuni elementi che non ti viene detto, qui manca completamente una definizione, una descrizione di queste cose, c'è, si va oltre anche la cosiddetta farglia, c'è la definizione oscura, no? Che consiste nel uso di termini astrosi per spiegare qualcosa, per non farti capire niente. manca completamente una spiegazione, e ci viene detto che cosa si vuol dire al professor prima di CNE e il rivedere di cittolo quinto. C'è lo si deve fare, si deve prendere una laurea, praticamente, in economia, una ingiurisprudenza, per capire queste due cose, per potersi far forza una sua opinione, che potrebbe anche non essere reale, può essere anche del cavolo, insomma, no? C'è lo possiamo anche sbagliare lo stesso. Quindi, detto brevemente, per avere questo, questa riforma, anzi, questa deforma, è una gran cavolata. Quindi, io ho cercato di fare un po' diverso sul referendum, potete dire le stesse cose. Sono stato anche un campo di mia competenza, così sono anche più sicuro di non sbagliare. Tra l'altro, vai te a dimostrare, che a punto di vista è logico, le cose non stanno così, contro dimostrare, che mi sbaglio sulle opinioni politiche, contro dimostrare, che mi sbaglio sulla logica. Io vi lascio anche il link in descrizione, per poter approfondire queste cose. Spero vi sia piaciuto, che votiate no. Ma tanto, non solo voterete sì, ma non vi ritenete nemmeno questo cacchio di video. Quindi, io solo ho perso tempo. Buonasera a tutti.